Cenciosi soluzioni edili rappresenta una fascia medio alta di qualità nei materiali e offre un servizio molto ampio per quanto riguarda la distribuzione, un servizio che passa dalla consulenza alla consegna finale e si distingue per un'ottima organizzazione logistica. Attualmente la formazione per il personale è tutto, rappresenta tantissimo o meglio subito dopo un bagaglio personale di qualità, di cultura e di educazione viene immediatamente la formazione. Noi l'affrontiamo attraverso seminari interni, attraverso consulenze esterne, attraverso la partecipazione a fiere, eventi e tante altre manifestazioni che permettono al personale di essere sempre più qualificato. Le linee di prodotto Heidelberg Materials più richieste sono dal cemento più classico il 325 al 425 e poi un'ottima quantità di premiscelati. La nuova grafica sui sacchi della Heidelberg Materials ha avuto un buon successo soprattutto internamente e un ottimo successo presso la nostra clientela. Il prodotto è stato presentato accompagnato da promozioni, presentato in modo adeguato facendo in modo che la clientela e anche i progettisti possano conoscere il prodotto innovato ma soprattutto nella grafica come abbiamo già detto. Il trend della sostenibilità sul cemento scopriamo giorno dopo giorno che c'è questa predisposizione a voler essere più attenti all'argomento. I clienti per quanto concerne il cemento sostenibile diciamo che possono cominciare a richiederli se sono prima preparati. Dobbiamo ancora procedere verso questo cammino. Siamo ottimisti ma la realtà è ancora calma.